La matriciana, la pasta più famosa al mondo, celebra la sua storia e lo ha fatto partendo dal riconoscimento comunale di un marchio Deco che ne certifica il legame storico con il territorio matriciano, oltre che un rigoroso disciplinare di produzione che tutela la ricetta originale. E proprio a pochi giorni dall'inaugurazione di Expo 2015, il più grande evento mondiale sull'alimentazione, dove la città di Amatrice sarà presente con ben tre prodotti selezionati dalla regione Lazio, arriva una notizia che non solo ci inorgoglisce, ha dichiarato il sindaco Pirozzi, ma conferma il valore e la dedizione che questa amministrazione ha posso nella valorizzazione dei prodotti e dei piatti tipici del nostro territorio. E' pervenuta dall'Arsia all'Agenzia della regione Lazio per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura la proposta di farsi promotore come capofila per il percorso di riconoscimento comunitario, specialità, tradizione e garantita per la salsa alla matriciana, riconoscimento sino ad oggi ottenuto solo dalla pizza napoletana. L'amatriciana dunque è come strumento di divulgazione del gusto italiano e della ricchezza agroalimentare che dai suoi prodotti trae origine. Per Amatrice ciò rappresenta una vittoria dall'alto valore simbolico.